Diversificazione, salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video Diversificazione, salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video Io sono Francesco e oggi parliamo di questo mito questa cosa che accomuna tantissimi investitori che non vogliono rischiare questa cosa che però è molto molto sopravvalutata secondo me e viene dato un peso eccessivo, un valore eccessivo a questa tipologia di comportamento di un investitore senza però tener conto di alcune grosse lezioni che ci possono dare i super investor ovvero gli investitori migliori della storia più recente o comunque della storia di SEM in particolare se andiamo su un qualsiasi provider di dati finanziari possiamo vedere che la grandezza del portafoglio di super investor ovviamente è direttamente proporzionale anche con la sua bravura o comunque con la sua bravura rispetto alla media degli investitori questi ultimi infatti riescono a battere il mercato e sono diventati super investor perché l'hanno battuto diverse volte anche di filo il più famoso di tutti è Warren Buffett che però comunque ha avuto diversi competitor anche nell'essere il migliore di Wall Street e soprattutto ha avuto anche grossissimi aiuti dal suo ex socio ormai devulto pull drop Charlie Mung in ogni caso nel video di oggi approfondiamo tutte queste cose in rete da diversificazione spero di attirare la vostra attenzione partiamo io sono Francesco questo è un grande spazio di finanza personale azioni e criptovalute oggi parliamo se non hai ancora fatto condividi il video metti mi piace iscrivi e mi lascia un bel commento inoltre se vuoi supportarmi ti lascio qua nel paypal per farmi una piccola donazione al risultato di un centesimo se partiamo dal portafoglio per esempio di Warren Buffett il suo portafoglio è sì estremamente diversificato dal punto di vista della quantità di titoli in particolare il Berkshire Hathaway detiene più di 50 titoli ma se andiamo a vedere la composizione percentuale vediamo che un singolo titolo vale più del 40% del portafoglio in particolare questo titolo è Apple e in passato questa posizione era diventata di oltre il 50% Warren Buffett ha una grossa posizione in Apple in Bank of America in American Express Coca Cola e Chevron tutte aziende diverse con vantaggi competitivi più o meno marcati e soprattutto tutte aziende che apparentemente non hanno un comune denominatore che le ha comune tutte aziende che hanno come unico comune denominatore essere aziende di ottima qualità di fatto però non serve essere Warren Buffett per trovare aziende di qualità vediamo ad esempio Lilou Lilou come prima posizione a Bank of America come seconda posizione a Google come terza posizione a Berkshire Hathaway come quarta posizione a East West Bank Corp e come quinta posizione a Apple quindi è una doppia esposizione a Apple il suo fondo da 2.26 miliardi di dollari ha ben il 30% del suo portafoglio da solo in Bank of America e se sommiamo la posizione di Apple quella in Berkshire Hathaway che ha un 40% di Apple passa ad avere ben il 20% del portafoglio solo in Apple questo non è da poco appunto perché la seconda posizione del suo portafoglio se utilizziamo Berkshire Hathaway come derivato è Apple e finora abbiamo trovato aziende in comune e aziende non in comune se passiamo per esempio a Bill Ackman che è un super investor di tutt'altra esperienza di tutt'altro carattere e stile di investimento abbiamo Chipotle una catena di fast food messicano Kilton Worldwide la catena di hotel Restaurant Brands sempre nell'ambito retail food Google che è Howard Huge Bill Ackman gestisce 5 volte le capitali di Lou ma in questo caso anche lui crede in Google vediamo che ci sono aziende in comune aziende non in comune e soprattutto che il portafoglio di alcuni super investor come quello di Warren Buffett è molto diversificato per il numero di titoli e molto dense il portafoglio di alcuni super investor invece è proprio scasso di titoli quindi ha senso diversificare o non ha senso diversificare guardando principalmente la teoria la diversificazione annienta completamente l'alfa negativo che si può generare in un portafoglio di investimenti quindi dentro down la possibilità di perdita perché di fatto mettendo uova in più panieri questo è un'ultima più improvabile che marciscano o cadano tutte per te di fatto però c'è un problema ovvero che se noi troviamo un paniere di uova che performa molto meglio degli altri la sua performance in percentuale sarà depotenziata agli altri panieri di uova che saranno mediocre per questo motivo un'eccessiva diversificazione porta a una mediocrità nel portafoglio questo motivo spesso se noi utilizzassimo un broker come per esempio Trading 1.2 che non sto sponsorizzando perché volevano consumere in descrizione come ha studiato ma è solo un nome perché permette di fare questa cosa io faccio un ETF e creo un pack su 100 azioni di fatto queste 100 azioni soprattutto se sono le principali azioni americane tenderanno a performare come l'S&P 500 forse un po' più meglio un po' più peggio però tenderanno a seguire l'andamento del mercato se io vado a investire in un ETF globale che investe su 5.000 azioni tendenzialmente avranno un ritorno medio che segue l'andamento della crescita del PIB globale quindi un'eccessiva diversificazione porta ad un'appiattimento dei rendimenti e ovviamente anche ad un'appiattimento dei rischi e della volatilità di fatto dipende da che tipologia di portafoglio stiamo gestendo se prendiamo le informazioni che ci ha dato Warren Buffett nei suoi scritti abbiamo diverse situazioni tra cui la diversificazione è una protezione un'assicurazione contro l'ignoranza ha veramente poco senso se conosci quello che stai facendo questa è stata una delle prime frasi che ho letto e subito mi sono messo a capofitto dalle azioni singole mi rendo conto che non sia la migliore frasi che si può dire a un investitore novello e soprattutto mi rendo sempre più conto che cercare di generare alto quindi generare rendimenti su azioni singole superiore al mercato sia una sfida veramente per pochi da riuscire a superare nell'arco temporale superiore in un arco temporale superiore a 3-4 anni Warren Buffett inoltre rientra la dose dicendo che una grave diversificazione è necessaria solamente quando l'investitore non sa realmente cosa sta facendo per questo lui ritiene che tutti gli investitori mediocri o gli investitori inesperti o le persone che non si dedicano ai mercati dovrebbero investire esclusivamente in EDA o in fondi che hanno una forte diversificazione di fatto Charlie Manghi il suo socio rincarava ulteriormente la dose dicendo che se ho 6 ottimi business in portafoglio e voglio diversificare in un set business mediocre la performance globale di quel portafoglio calerà a picco perché quel business mediocre magari si comporterà malissimo non genera rendimento o addirittura perderà soldi e andrà ad importare completamente sulla performance delle altre 6 di fatto inoltre tendenzialmente la diversificazione la facciamo sempre come anche una scusa come tendenzialmente le persone quando diversificano dicono e una parte di questi soldi la lasciavano su aziende più riscritte su piccole scommesse in teoria diversificare non dovrebbe essere gettare soldi nel VC diversificare dovrebbe ridurre il rischio globale del portafoglio non aggiungere delle piccole scommesse e compensare col grosso rischio con degli investimenti mediocri come ritorni mediocri per questo motivo la maggioranza di superinvestor è molto aggressiva su azioni singole ed è questa la loro fattura Peter Lynch anche lui superinvestor uno dei più grandi superinvestor della storia dice che l'unica cosa la cosa peggiora che puoi fare negli investimenti è investire in qualcosa che non conosci e la diversificazione appunto è una protezione contro l'ignoranza avere tante azioni è come avere tanti bambini più ne hai e meno riesci ad avere un rapporto emotivo con esse meno riesci ad essere a conoscere bene quelle persone lì infatto se abbiamo un singolo figlio tre figli li conosceremo abbastanza bene se avremo dieci figli ci sentiremo più come una fattoria di bambini piuttosto che una famiglia per questo motivo con le azioni non si può pensare di essere sul pezzo su dieci azioni diverse di giorni ci può essere sul pezzo su due tre azioni in particolare io ho in portofoglio in questo momento alibaba paypal che sono le mie due azioni core e poi seguo altre azioni per esempio lbmh con cui ho preso una piccola posizione che spero di aumentare però comunque rimanono sempre dei numeri bassi se comparati a numeri più grandi che si possono trovare altre bar un super investo che non è di questa opinione è Ray Dalton il quale ritiene che la diversificazione è fondamentale per investire bene e lui è il primo a diversificare in etf infatti se andiamo a vedere nel suo fondo Bridgewater Associates loro hanno diversi etf su SP500 anche in percentuali superiore a 10% o hanno avuto in passato questo implica che comunque loro seguono magari una logica di value investing quality investing e di edge per cercare alpha sicuramente sono un edge found molto competitivo sono il più grande edge found al mondo non per niente ma dall'altra parte utilizzano anche gli etf per diversificare questo implica che la logica degli etf è una metà stupida anzi negli ultimi anni se io avessi investito solo in etf sarei decisamente molto più ricco di quello che sono ora se avessi investito tutti i soldi che ho investito in Alibaba e in PayPal in questi ultimi 4 anni di fatto però il rischio e opportunità che ho su un investimento del genere per quanto in questo momento non sia stato regolerato su Alibaba ad esempio in questi ultimi 4 anni potrebbe portarmi un ottimo beneficio futuro che va a ricompensare tutto il tempo che ho ottenuto quei soldi in perdita o stabile questo ovviamente sarà da vedere questo ovviamente fa parte del gioco e non sempre nonostante i propri calcoli siano giusti il mercato dà ragione il mercato è una macchina che nel breve periodo vota e nel lungo periodo peso il problema di un'azione ma di fatto ci può essere anche un momento in cui su 10 azioni su cui noi scommettiamo 8 vadano male e solo le due azioni vanno bene talmente bene da compensare tutte le perdite che abbiamo fatto e portarci rendimenti importanti la diversificazione per esempio per Bill Aquman è una protezione contro le perdite una sorta di assicurazione che ci permette di avere uno stop loss inserito dal punto di vista di non perdere puramente tutto quello che viene in portafoglia e voi che ne pensate della diversificazione siete persone che diversificano completamente in etf o avete un approccio misto o massimalista su azioni io personalmente faccio un po' di tutto perché mi piace studiare varie tipologie di assets finanziari e approfondire sempre di più utilizzo in questo momento lo trovate in descrizione trade republic per i miei trade e per i miei biani di accumul sul mercato azionario insieme a interactive broker per questo motivo ve li lascio entrambi in descrizione e soprattutto vi ricordo che sono li incastigliati per questo motivo avrete un beneficio anche voi da cliccare il link in descrizione inoltre io vi ringrazio per la visione vi ricordo che una donazione è sempre ben accetta per sostanere questi contenuti dato che non siamo tantissimi ma siamo sempre più numerosi e questo mi fa molto piacere mi fa molto piacere i commenti mi fa molto piacere il vostro calore su tutti i video noi ci vediamo prima di tutto sul mio canale discord ore 22 parliamo di mercati finanziari azioni e prototivalute in una community gratuita che ogni martedì ore 22 si raduna per parlare della settimana sui mercati inoltre ti ricordo che se non sei il tuo che ti occupi di economia se l'economia occupa di te soprattutto che vedrai un sacco di soldi se non ti iscrivi a questo canale e che quindi il like e la prodivisione sono doppi noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti